Ciao Rattilover, stai cercando un crossover compatto, comodo e allegro? Citroën C3 Aircross, 1.2 di cilindrata, PureTech, 82 cavalli, allestimento Shine. Alimentazione a benzina, aziendale immatricolata nel 2019. Questo vuol dire che è certificata e garantita per chi ha superato il test dei 100 punti di controllo dei nostri automotive expert. Doppio chevron nella parte anteriore, dettagli nero lucido che bordeggiano i fari anteriori, gli specchietti retrovisori esterni e le barre al tetto. Vetri posteriori e lunotto fumé per proteggervi dai raggi solari e garantire maggiore privacy. Cerchi in lega da 16 pollici bicolor, cromati e nero lucido. Il battistrada, come potete vedere, è in splendide condizioni. E parlando di consumi reali, Citroën C3 Aircross riesce a percorrere ben 16 chilometri con un solo litro. Il bagagliaio con luce di cortesia parte da una capienza di 410 metri. Doppio vano per caricare. Abbattere i sedili posteriori è davvero semplicissimo grazie a questa pratica leva. E lo spazio a disposizione arriva a 520 litri. L'abitacolo è accogliente e super luminoso. E guardate che belli i sedili in tessuto bicolor dotati tutti di attacchi Isofix. Il sedile centrale inoltre è estraibile con questa pratica levetta e diventa un comodo bracciolo con doppio portabibite che dà direttamente sul bagagliaio. Meno di 20.000 chilometri all'attivo. Guardate che meraviglia la plancia super di design con i bellissimi dettagli cromati sulle bocchette dell'ariazione. Il volante è in pelle comodissimo, morbido ed ergonomico e dotato di numerosi tasti, tra cui il comando vocale e la gestione delle telefonate. Non può poi mancare la levetta del Cruise Control. Molto pratici i vani portaoggetto antiscivolo che troviamo sia davanti al sedile del passeggero che nel tunnel centrale. Accanto ha una presa da 12V, ha una presa USB e anche davanti ai passeggeri posteriori. Dal display al centro della plancia sotto le bocchette dell'ariazione possiamo gestire tutto l'infotainment. Dalla radio possiamo accedere al navigatore, al clima e connettere il nostro smartphone attraverso Bluetooth, Apple CarPlay e Android Auto del pacchetto MirrorLink. Numerosi sono poi i sistemi di assistenza alla guida come l'assistenza al parcheggio con i sensori perimetrali, l'antipattinamento, l'avviso degli pneumatici sgonfi, il cambio è manuale. Insomma, vieni subito a scoprire questo ed altri crossover compatti sul nostro sito racchiauto.com. Puoi riservare la tua auto per 7 giorni senza impegno con soli 100 euro, riceverla direttamente a casa in tutta Italia con servizio di consegna a domicilio, con igienizzazione e non dimenticare di seguirci su tutti i social e di cliccare sulla campanellina del nostro canale YouTube. Alla prossima auto!